A.A.A. Principe volenteroso, versatile e di bella presenza, disposto a rimboccarsi le maniche, cerca un lavoro per provare la vita vera. Cielo vi racconta una favola diversa da tutte le altre. La storia di un principe, che da sempre cullato dalla sua vita regale, coglie l'occasione per assaporare il gusto della vita reale. Emanuele Filiberto vive da sempre nel lusso. Il suo pane quotidiano, mondanità e sfizi costosissimi. Da quando sono bambino l'autista, non ho neanche la patente per questo. Affascinante e sempre alla moda, esibisce una serie di talenti che però nella vita reale non hanno alcun valore. Come se la caverà in un lavoro vero. Con l'aiuto del pubblico, chi ha già risposto numeroso al suo annuncio, proponendogli lavori più duri, bizzarri, ma soprattutto più improbabili per un rampollo di sangue blu. Gentile principe, siamo commercianti, la generazione. Questa è la clorovivaistica, carichi e chili di merce, tagliare la leva e mucire. La sfidiamo ad imboccarsi le mani. Il nostro lavoro è numeroso, adatto solo a uomini veri. Infatti sono proprio le persone da casa che insieme al principe diventeranno protagoniste dello show a decidere cosa farà Emanuele Filiberto. Principe, messaggi per oggi. Io lavorerei 12 ore con me a carica ai pacchi. E deve venire nella mia fattoria. Una mattina alle 5 a lavorare. Dopo anni passati nella bambagia, il nostro principe si trasforma così in principiante. Con tanto di colloquio... Metraghi è un lavoro duro. Apprendistato? Comunque fa 65.000 litri d'aria al minuto. E prova sul campo. In ogni puntata Emanuele Filiberto cerca di imparare un lavoro nuovo, svelandone i segreti che solo i più esperti addetti ai lavori conoscono. Per togliere tutte le impuntabili. Ma qua intorno? Sì, tutta la parete, il fondo. E alla fine verrà valutato dai suoi colleghi e dai suoi capi. Questo ragazzo non sa fare niente, non ascolta mai. Fa un po' di pasticci, però sinceramente pensavo peggio. Ma è andata la giornata, Principe? Stancante ma bella. Cosa facciamo domani? Il principiante, il nuovo show di Celle. Perché il lavoro nobilità.